ecco adesso siamo live questo è il bello della diretta buonasera a tutti ovviamente il bello della diretta non sono io ma è lei benvenuta alessia benvenuta alessia gazzola che bello vederci anche se non si può fare in diretta non si può questo è un live praticamente televisivo non è di persona i tempi sono quelli che sono non si può fare diversamente quindi da ce lo facciamo andare bene è un modo comunque anche carino per incontrare i lettori poi questa piattaforma è fantastica siamo in diretta su facebook diretta dovuto diretta mondiale a chi ci sta seguendo dico io farò qualche domanda ad alessia ma se avete voglia di scrivere nei commenti qualche vostra domanda proviamo a leggerla in diretta ok dico proviamo perché io sono presbite quindi mi dovrò avvicinare così per riuscire a leggere qualcosa gli occhiali perché se no in pratica c'è il riflesso del monitor ci proveremo è il caso di due orbi in una valanga come avete capito stiamo cercando e vedrete che raggiungeremo l'obiettivo di avere un'ora di divertimento e di leggerezza insomma non si può non provarci e non si può non riuscirci con una materia così viva così tale come la tua produzione alessia in particolare appunto il libro di cui parliamo oggi è sentito la costanza e buoni propositi e di cui appunto tra poco parleremo e la nuova avventura di un nuovo personaggio per te un personaggio che io ritengo strepitoso per diverse ragioni che so adesso cerchiamo pian pian pianino di esplorare però io ritengo ecco giusto per cominciare a scaldare gli animi ritengo che in questo romanzo ci sia una questione di fondo che è estremamente attuale e che ci riguarda un po tutti da vicino che è la questione dell'identità ovvero questo romanzo inizia con flora la piccola di casa che in una scena molto carina che mi ricorda davvero le mie figlie cerca di imparare un nuovo nome un nuovo cognome per la precisione no perché finalmente per diverse vicissitudini suo padre è presente nella sua vita ed è intenzionata a riconoscerla e quindi a darle il suo cognome ora la questione dell'identità io trovo appunto ripeto enormemente attuale e che in parte riguarda ma poi magari ci arriviamo riguarda anche la linea narrativa che nel romanzo riguarda il passato cioè tu hai secondo me mirabilmente accostato due questioni solo apparentemente diverse e due epoche anche qui solo apparentemente diverse attraverso un concetto fondamentale è proprio quello dell'identità chi siamo cosa vogliamo essere nella vita cosa la vita rappresenta per noi noi quindi cosa ci restituisce in termini di identità riceviamo conferme o spesso come capita a costanza qualche batosta no allora partiamo magari proprio da questo sì sicuramente in questo caso come veramente in questo libro più di qualunque altro forse abbia scritto c'è proprio questa circolarità no tra gli eventi del presente e quelli e quelli del passato e io volevo fortemente che l'identità fosse al centro del racconto e per l'esattezza per identità o più identità io intendo quello che vorremmo essere non siamo e viceversa è ovviamente l'accettazione di quello che alla fin fine siamo perché poi c'è sicuramente è già l'incipit che te lo che te lo enuncia no partendo dal riconoscimento di flora e dal cambiare il nome che poi si traduce effettivamente anche in un cambio di condizione e questo poi accompagna tutto quanto il romanzo perché questo questo nuovo personaggio svolge come dire delle delle indagini storie o meglio paleo patologiche appunto in un caso in cui appunto una persona ha rubato l'identità di un'altra e poi giusto perché non mi sembrava abbastanza tutto questo ho dato a costanza una bella fin nell'impostore no insomma al centro di del racconto e anche in qualche modo della della fase della vita che sta vivendo no lei si sente un po un impostore si sente forse un po incerta quanto mai di chi è chi vuole essere quindi è un romanzo che ha veramente al centro questo che dicevi tu del questa tematica che giustamente ricorda vita ed è anche curioso che citi la questione della sindrome dell'impostore di cui effettivamente si parla molto si parla molto ho letto da poco anche dei dati che dicono che riguarda ahimè principalmente le donne sul lavoro con una percentuale di scarto piuttosto elevata non che gli uomini ne siano esenti però ecco va detto che la parte femminile della nostra società ne soffre parecchio secondo te perché poi questo mi fa pensare anche a una cosa che tu hai detto in passato in merito alla scelta delle tue protagoniste no per quanto diverse hanno in comune qualcosa cioè una certa fase della loro vita che se vuoi si accompagna anche una certa età in cui tutto sembra possibile e allo stesso tempo tutto sembra impossibile ci si pone degli obiettivi che spesso è difficile raggiungere e appunto a volte perfino quando vengono raggiunti sindrome dell'impostore no 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 ma è verissimo perché poi sai cosa secondo me siamo talmente tanto sotto pressione no che anche quando a te sembra di averlo raggiunto effettivamente quel quell'obiettivo che ti sei prefisso immediatamente però si alza l'asticella e quindi è un continuo arrancare verso un obiettivo che è sempre un po più in alto rispetto a te a quello che ti eri prefissa e nei confronti del quale pensi sempre di non avere le carte in regola no per riuscire in effetti a conseguirlo quindi poi nel momento in cui ce la fai tu dici che è stata una battaglia di fortuna è possibile altra interpretazione non può essere merito mio no quindi questo è il mio modo un po di vedere le cose però secondo me la base comunque c'è sicuramente un discorso ora al di là dell'aspetto personale perché non siamo qua per fare psiche analisi però al di là dell'aspetto personale penso che comunque tante noi siamo affette da comunque una bella insicurezza che poi è quella che ti fa sempre dubitare della bontà del risultato che hai conseguito no e delle motivazioni per cui le hai conseguito facile pensare che sia stata la la fortuna anziché il merito con una serie di circostanze favorevoli che hanno spianato la strada anziché il duro lavoro ecco ogni canzone accorgi io credo che in questo costanza sia un esempio perfetto intanto magari ecco appunto raccontiamo un po il personaggio perché sicuramente c'è tra chi ci segue chi ha letto il precedente chi ha letto questo e chi magari invece ti conosce per altri libri ed è incuriosita da curiosito da costanza no la costanza non ha certo avuto una vita facile dal mio punto di vista è stata anche estremamente coraggiosa però questo vorrei che lo raccontarsi tu ok la costanza è io l'ho ribattezzata la paleopatologa recalcitrante no però prima di arrivare alla paleopatologia un po raccontiamo come c'è arrivata è l'ho privata in medicina si è specializzata in anatomia ipotologica a trentina d'anni nell'attesa di trovare diciamo un contratto più favorevole l'unica cosa che in realtà riesce a ottenere questo contratto per un anno più che altro un assegno di ricerca per un anno in paleopatologia che lei proprio manco sa cos'è lo sa a malapena dal momento che come dire ha partecipato una selezione per titoli quindi neanche un vero quindi lei ha semplicemente mandato il curriculum in altri termini quindi noi la affrontiamo nel primo libro in cui veramente conosce a malapena la differenza tra paleopatologia e paleontologia ci si è ritrovata veramente tanto per caso e questo riguarda l'aspetto professionale per cui lei lo fa studia deve cominciare da capo sognando comunque che sia una fase transitoria e poi di poter diciamo trovare il lavoro per cui effettivamente ha studiato per quanto riguarda invece la sua vita personale costanza malgrado appunto l'età è già mamma di una bambina i miei tre anni che ha avuto in circostanze molto così allegre diciamo che del padre non sapeva manco il cognome si è un po allanciata in un'avventura solo che poi di questa avventura è rimasto questo simpatico cadeau che è questa bambina abbastanza irruente e molto come dire furbolenta che lei si gestisce si smazza totalmente da sola perché appunto non è stata diciamo non ci sono state le circostanze per coinvolgere il padre nella vita di questa bambina solo che a un certo punto si rende conto che è uno sforzo maggiore per rintracciarlo lo deve fare per se stessa per la bambina e per il papà stesso per cui nel primo romanzo abbiamo raccontato un po come lei comunque neanche troppo facile non lo rintraccia al coraggio comunque di prendersi le proprie responsabilità di tutte quante le scelte che ha fatto io non è questo questo il coraggio che diceva è coraggiosa ma alla fine si veramente si schiappa verso gli eventi però in maniera molto coraggiosa un po imprudente ma sicuramente molto coraggiosa e quindi il rompe nella vita di questo ragazzo scombinandola completamente devono superare peraltro uno dei reciproci pregiudizi perché sostanzialmente non si conoscono eppure condividono il massimo dell'intimità e soprattutto il massimo dell'impegno possibile che generalmente nelle coppie è un punto d'arrivo ecco più raramente è un punto di partenza non così raramente però perché 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 capita però sicuramente un po' più infrequente quindi per loro c'è tutto da costruire e sicuramente lei ha questa sua vita un po' così complicata perché non è completamente soddisfatta dal punto di vista del lavoro è un po' zoppicante da un punto di vista sentimentale perché comunque lei via via si prende una bella cotta forse sostanzialmente non le è mai bastata ma nei confronti di questo ragazzo anzi conoscendolo questa cotta lievita in realtà forse anche un po' si innamora solo che questo ragazzo è molto 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 impegnato con un'altra e quindi lei è destinata anche lì insomma a schiantarsi malamente insomma è una di noi perché per come l'ho immaginata io per come ho immaginato la sua vita mi piace pensare che posso essere sentita e percepita vicina ecco da... ma infatti guarda per esempio vedo perché iniziano arrivare le vostre domande grazie vedo che Teresa ti chiede ciao Alessia costanza è un personaggio di fantasia o ti sei ispirata a qualcuno che conosci ed evidentemente la domanda nasce proprio dal fatto che è così viva costanza sembra davvero qualcuno che conosciamo che abbiamo conosciuto insomma sono molto contenta in costanza in realtà no non si ispira a qualcuno che ho davvero conosciuto confluiscono sicuramente un po' come al solito come tutti quanti i miei personaggi magari poi dentro ci confluisce qualcosa in minima parte anche di me io per esempio l'ho data a volte un po' il rapportarsi con la maternità imperfetta l'aver traslocato da Messina a Verona questi sono aspetti di me che sono filtrati sicuramente nel personaggio volutamente peraltro ma per il resto no io quando scrivo non è che immagino di essere io Alessia alle prese con la situazione X perché sennò tutti i personaggi magari poi risulterebbero tutti quanti uguali invece io trovo quello che trovo stimolante e divertente poi sono tornate le mie stimolante e divertente è proprio il mettersi completamente in panni che non sono i propri quindi immaginare delle persone completamente diverse diverse dei modi di vivere di pensare di relazionarsi completamente diversi ritengo io certo ma infatti poi questa cosa la vorrei affrontare con te adesso leggo un altro paio di domande ma questa cosa la vorrei affrontare con te nella prova somma io credo per una scrittrice che è immedesimarsi nei panni di un padre e che padre c'è Marco che scopre in un modo del tutto rocambolesco di essere padre poi su Marco arriviamo perché qui scatta la parte paterna del cocco però appunto evidentemente interessa moltissimo il modo in cui gli scrittori creano i loro personaggi che è sottenuto nella domanda che poi un po spesso viene rivolta cosa c'è di te per esempio aspetta che la recupero Andrea chiede ti identifichi di più in Costanza o in Alice anche altri chiedono domande di questo tipo no cioè cosa c'è di te in questi personaggi che poi non hai detto che debba essere della tua personalità magari appunto è della tua esperienza no? ma sai è molto semplice poi in realtà pensare che il personaggio sia autobiografico comunque che sia la mia personalità nei romanzi perché scrivendo sai in prima persona singolare probabilmente secondo me questo favorisce questa identificazione in realtà per me scrivere così è molto istintivo però non si traduce come un diario dei miei pensieri ecco che non è magari io poi filtro anche in altri personaggi per esempio io alcune cose le affido a Toni dalla sorella di Costanza da Antonietta che a volte si ritrova questa sorella che è completamente disorientata e quindi in realtà sento più vicina a Toni perché è più inquadrata più tesa verso razionalizzare sempre un po' gli eventi che è come io sono loro due sono un po' vicine alle due sorelle di ragione e sentimento una è tutta quanta emotività l'altra invece è tanto tanto più pragmatica e razionale e anche meno incline a lasciarsi devastare da sentimenti ed emozioni Costanza invece se ne lascia sopraffare però ecco è una che comunque Costanza quello che ho voluto per lei è che fosse sempre un personaggio che tende al bene cioè lei sbaglia però ha sempre diciamo l'obiettivo di migliorare di comportarsi bene sono tutti quanti i suoi buoni propositi poi sai la vita è come dire lo stiamo scoprendo un po' tutti esatto questi buoni privati a volte se ne fa un po' quel che vuole lei la vita però insomma beh sì quanto meno li ha non è sta potente no 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 e non solo io ribadisco con forza quanto ho detto prima ci tengo proprio a ribadirlo una peculiarità di Costanza almeno io la vedo così lì eh cioè avendo lavorato con te su questi libri eh forse uno sguardo un po' più da cucina no quello che succede in cucina prima che il piatto venga impiattato però eh Costanza ha il coraggio della scelta fin dall'inizio fin dall'inizio cioè si fa travolgere dalle emozioni è vero ma questo non è mai un alibi per non fare una scelta sì 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 è vero è anche diciamo molto eh diretta no nel momento in cui poi lei si relaziona con gli altri non è una confusa è diretta è capace di chiamare le cose con il loro nome eh ma anche in questo diciamo l'ho voluta in una determinata maniera perché il personaggio si forma appunto nella mente dell'autore im sleep e nei cerchi suitcase in cui ho detto che io для te io sto comunque soddisfatta che tu lo sai detto da me ho 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 Per dire che io sono soddisfatta di Costanza, è vicino all'Armageddon. Ah, ridagli alla sindrome dell'impostore, insomma, ma no, ma no. Ma no, ma no, devo dire che con questo secondo romanzo io ho acquisito tanta più sicurezza e fiducia nei confronti di questa mia rossa, devo dire. Perché ho percepito tanto, tanto fretto e questo quindi mi ha caricata. Sì, sì, ma io ritengo che, te l'ho già detto più volte, ma che sia un personaggio straordinario anche perché, beh, intanto è mamma. Ed è una mamma estremamente per scelta, cioè è una scelta fatta proprio nell'ultimo momento disponibile, no? Quindi, no, no, ha una sua forza intima questo personaggio che pur inserito nei toni della commedia, credimi, secondo me emerge, emerge moltissimo. Tra l'altro, una delle tue lettrici che ci sta seguendo, Angela, dice, evidentemente ti conosce bene, dice, lo avevo immaginato che in toni ci fosse qualcosa di te. Non so perché, vedi? Normale. Dai, grazie, Angela, anche perché poi Itani è risultata molto gratis, quindi sono contenta. Però, sì, sì, è sicuramente di tutti quanti i personaggi che ci sono all'interno del libro, poi è un po' quella che sento più vicina, in realtà, nel mondo, per quanto riguarda il mondo di Costanza. Ma poi, sai, nel mondo di Alice io dico sempre che quella che sentivo più vicina era con Forti, mi devo preoccupare io di questa cosa, forse. È un pochino sì, ma non diciamolo. Ma, comunque. Beh, senti, visto che appunto parli del personaggio maschile dell'allieva, parliamo del personaggio maschile di Costanza, cioè Marco. Nell'arco dei due libri, Marco imbastisce, questo te lo dico proprio da padre, te lo dico col cuore, no? Marco imbastisce una reazione di fronte a questa improvvisa paternità che ha tutti gli elementi chiaramente inevitabili dello shock emotivo, a cui però reagisce in un modo davvero peculiare, no? E per certi versi inatteso. Allora, andiamo un po' dietro le quinte di questo personaggio, parlaccene un po' anche nei momenti critici. Per esempio, ho visto che l'altro giorno Lino ha letto un brano che, lo sai, ci lavoravamo, è una scena strepitosa quella lì, perché è il momento in cui Marco dice l'indicibile, no? Cioè, a un certo punto lui dice, senza fare troppi spoiler per chi non l'ha letto, ma lui dice, fosse stato per me non ci sarebbe Flora, no? E in questo dimostra una percezione di sé molto chiara, molto chiara, perché messo di fronte all'evidenza non si tira indietro, ma anzi, confessa tutto se stesso, no? E riconosce una cosa in sé che non è certo bella da riconoscere. Ora, proprio per queste e per altre cose che succedono nel corso di questo romanzo, e in parte anche nel precedente, Marco per me è stretitoso, è proprio il papà che un po' anch'io vorrei essere, no? Però raccontaci un po' come l'hai costruito, cosa ti ha ispirato, qual è la sua personalità vista da te, insomma. Allora, io lo so che sono sempre un po' schizofrenico quando dico questa cosa, però in realtà io sono, cioè, sono abbastanza convinta del potenziale di questo personaggio. Cioè ogni tanto dico scherzando, sono una crush per Marco, probabilmente perché io, questa è una cosa che viene fuori a ogni diretta, perché io ce l'ho molto chiara fisicamente, io mi sono ispirata ad un attore che si chiama Idantarn, e questo già tu capisci perché ci ho fagraccio. Ma poi è nata anche, insomma, un po' l'idea nella mia mente, anche da un, da alcune suggestioni, no? Il fatto, per esempio, che lui suona serpiano. Insomma, io nella mia mente Marco se l'ho molto, molto chiaro, e secondo me è anche un tipo di personaggio che è stratificato, cioè ha tanti piani, no? Di lettura, della realtà. E questo, secondo me, è una cosa che è tanto a suo favore. Poi ovviamente questo è, la storia di Costanza io so, sin da subito l'ho immaginata come un romanzo, diciamo, seriale, come una storia seriale. Quindi è evidente che ancora ci sono margini di esplorazione di Marco. Però io sono, ora, di nuovo lo ridico, soddisfatta di Marco, e non solo per Idantarn, perché appunto... Allora, è innanzitutto uno che appunto si è accollato bene questo discorso della paternità. Se l'è accollata bene, pur e sicuro anche con i propri limiti, ogni tanto rischia di essere un po' uno yes man, alla figlia, non nega niente, però è indice del fatto che lui comunque sta cercando di fare del suo meglio e parte da dove sa partire, no? Innanzitutto dal dare. E poi pian piano si migliorerà e si strutturerà. Però in questo romanzo c'è anche un po' un'evoluzione del rapporto con Flora, perché dall'inizio a vederla così un'oretta ogni tanto, e allora è facile. Dopodiché adesso lui comincia a tenerlo ogni tanto per il weekend, quindi si rende conto di quanto impegnativo veramente sia, e questo fa anche assumere valore a costanza ai suoi occhi, no? Perché si rende conto di tutto il lavoro che lei ha fatto, bene o male, magari sì, per carità, però lo ha fatto e lui non lo avrebbe fatto. Questa è una verità che ormai gli è chiara e che di fatti ammette. Quindi forse anche lui si sta un po' innamorando, forse sì, boh, non si sa, lo abbiamo letto. Però, però ripeto, il personaggio secondo me ha avuto una buona crescita in questo secondo romanzo e ho idee scoppiettanti per il terzo. Bene, bene. Intanto Silvia dice, ho letto i due libri uno dopo l'altro in due giorni. Due giorni, signore e signori. Una meraviglia, aspetto ovviamente il prossimo, complimenti. Beh, adesso sai che ti aspettano cose esplosive. Ti ringrazio di cuore, Silvio, insomma, spero sia stata una buona compagnia, visto che appunto, ecco... È in due giorni divorato. È divorato e sì, sicuramente ci sarà appunto questo terzo che sto cominciando ad assemblare e vediamo un po'. Non lo so, fino alla fine com'è questo libro. E certe volte, ma anche alla fine, io sono quella che tipo una settimana prima di andare in stampa lo riscriverei da capo, come tu pensi, cosa te la faccio? E che non lo so... E che non lo so... Dopo dieci anni... Cambiare quando le bozze sono in ciano è il grande tipico della Garzzi, no? È il grande classico. Soprattutto, siccome l'ho letto il libro talmente tante volte, no? Poi alla fine non riesco più a essere lucida. Per cui quando arrivo proprio alla fine, per me sono pessimista al massimo che potevo farlo meglio e tante altre varie cose. Quindi, dai, sono contenta di questa cosa. Ma sì, ma poi... È andato bene. Ma certo che è andato bene. Poi l'importante è che ti arrivino le fatture del mio analista, poi... Siamo posti... Senti, il rispetto alla serie dell'allieva, ecco, non vorrei sottovalutare questo elemento perché poi lasciamo correre il tempo, ma, insomma, no, bisogna parlarne. Qua c'è un ingrediente che io trovo altrettanto innovativo e spettitoso, no? Che parte, diciamo, dalla professione di costanza, cioè la professione, ahimè, accidentale, involontaria, che forse però un pizzichino comincia a piacerle, no? Cioè la paleopatologia. E questo dà a te, come scrittrice, l'occasione di affondare la tua penna in una storia ambientata nel passato, no? Sì. Allora, intanto vorrei chiarire, se vuoi anche sfatare un mito. Cioè, ragazzi, rendiamoci conto di quanto lavoro di ricerca ci vuole per scrivere un libro di questo tipo. Cioè, Alessia ha, tu hai studiato tantissimo la paleopatologia, per esempio, sei andata anche sul campo, e non è una cosa da tutti, non è una cosa immediata. Ma poi c'è tutta la questione dell'approfondimento storico, no? Anche lì, documenti d'epoca, archivi. Qua, secondo me, hai scovato qualcosa di davvero particolare, no? Che poi tocca una, tra l'altro, la città in cui sta Marco, cioè Milano. E la cosa curiosa è che sei partita da quella che pare essere una leggenda e sei andata a scoprire una storia che ha di tutto dentro. Ha del tragico, ha del feroce, ha dell'eroico, ha perfino appunto del rocambolesco, no? Cioè, la sostituzione di identità, che sembra una cosa quasi contemporanea, ma no, già nel Trecento. Ecco, raccontaci un po' come l'hai scoperto da dove sei partita. Ma sì, a me ogni volta che comincio a immaginare il libro di La Nuova Avventura di Costanza mi si apre veramente tutto quanto un mondo, no? Io chiaramente vengo dai miei studi, che per chi non lo sapesse sono quelli di medicina e in particolare di medicina legale. È evidente che quando affrontavo i libri della serie dell'allieva, ok, sì, c'era da studiare, da ripastare però più che altro, perché appunto io avevo già studiato tanto per fare quel lavoro. Quindi sicuramente c'era una componente di ricerca, ma non paragonabile neanche lontanamente a quello che invece devo fare per Costanza, perché appunto non è il mio campo. Quindi per prima cosa ho preso contatti con un vero istituto di paleopatologia in cui sono stata accorta con molto generosirà e con molta apertura mentale ed è un qualcosa davvero di cui non potrò mai ringraziare abbastanza. Anche perché poi io, chiaramente la storia e tutte le cose le penso da me, però poi a volte mi nasce il dubbio, ma è che sto pensando in qualcosa che invece non è verosimile, quindi li disturbo continuamente, no? Perché le conferme e con domande. L'ultima, 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 ho detto all'archeologo, a cui mi rivolgo sempre, che è sempre di questo istituto di paleopatologia, ho detto, giuro che è l'ultima, giuro che è l'ultima. Quanto pesa più o meno una cassa di 8.000 fiorini? Ma perché sì? Eh, si ricordo, è vero. Esatto, perché poi per scrivere questi capitoli, perché appunto sono alternati, poi in realtà i capitoli storici li abbiamo contati, no? Sono 8, tutto l'arco del romanzo, non sono sicuramente la maggior parte, però ne probabilmente in uguale proporzione. Però per farli bene bisogna darci dentro, eh? Esatto, però appunto per descrivere anche solo il quotidiano del Medioevo, ti vengono in mente quei siti e dubbi a ogni passo, perché volevo scrivere, per esempio, mi era venuta l'idea di scrivere questo capitolo dello specchio, perché sempre, diciamo, sempre in virtù della circolarità della storia, lo specchio mi sembrava un elemento molto evocativo del discorso dell'identità e via dicendo, solo che poi a un certo punto, eh, ma nel Medioevo esisteva uno specchio. Cioè, i dubbi ne hai di tutti i tipi, e come erano questi specchi, come sono arrivati questi specchi nel Medioevo, chi li poteva avere. Soprattutto, esatto. Pure per capelli, esistevano nel Medioevo. Cioè, ti poni problemi per ogni cosa, per questione di costanza, per esempio, avevo scoperto che non si fa la colazione nel Medioevo. Cioè, era considerato sacrilego, quasi. Soltanto le persone non per bene facevano la colazione nel Medioevo. Quindi, sono tutte cose che poi, quando devi andare a scrivere un capitolo che ha un'ambientazione medievale, su cui devi necessariamente ragionare, e te lo devi chiedere, perché sennò appunto i rischi di scrivere una cosa imprecisa. Ora, ok, che si tratta di romanzi, di fantasia, che magari ci sono delle licenze, no? Tutto quello che si vuole. Però, ecco, insomma, non fare degli errori proprio troppo marchiani. Cioè, comunque, persiste in me la secchia che ero. del Medioevo, che non vuole sbagliare, capito? No, ma non solo. Poi sono anche occasioni per studiare, per studiare, per mettere in scena una storia davvero coinvolgente, in cui, poi, chi non l'ha letto lo leggerà, capirà, scoprirete tante cose vere, davvero insospettabili. Cioè, l'esistenza di una Anastasia Romanov impostora... E' vero, questa è una storia, è vero, è vero. Questa è stata una storia, ma che infatti mi ha convinta da subito. Infatti, tu ti ricorderai, ti ho telefonato, quella mattina ho detto, guarda che ho trovato la storia del Costanza 2. Perché, appunto, l'idea è quella, come giustamente citavi tu, di una Anastasia Romanov medievale e non da inventare, perché appunto è esistita davvero. C'è stata questa figlia di Bernabò Visconti morta, appunto, in circostanze tragicissime. Condannata a morte dal padre, sostanzialmente, per il semplice fatto di essere adultera, che poi, voglio dire, ecco, insomma, però, va bene, nel Medioevo accadeva, ma in realtà forse accade anche oggi, però, insomma, è meglio non addentrarci in queste cose che già siamo attorniati da una realtà, al momento, un pochino cupa. Comunque, insomma, muore per queste ragioni e però, poche settimane dopo, da questa sua morte, barra presunta morte, in realtà comincia a circolare per il nord Italia, vivendo gli espedienti, una tale Bernarda, che, insomma, sosteneva di essere lei né più né meno, come era accaduto per... con la gran duchessa Anastasia e Anna Anderson, che per anni si staccia per lei, e c'è gente che ancora la sostiene, nonostante un esame del DNA che poi, insomma, è stato fatto, e poi anche il ritrovamento dei resti dei Romano, capito? Quindi, ma lei questa cosa ci ha marciato per una vita. E quali erano le motivazioni, no? Perché è facile dire, sicuramente, il discorso della mitomania, tutto quello che vogliamo, per soldi, sì, però cosa davvero ti spinge da dentro a voler diventare un'altra persona, no? Qual è il motore? E questo è oggetto del racconto. E in maniera circolare torniamo alla domanda dell'inizio, è una questione di identità. Cioè, scopriremo che questa impostora vuole vivere una vita che non è la sua, vuole vivere una... perché è una vita migliore. e questo è attraverso tutte le epoche, attraverso tutte le... E lo dimostra, no? Perché uno può pensare che la vicenda di Anastasia Romano sia credibile in quanto anche novecentesca, no? Quindi che chiaramente le donne potessero entrare in contatto chiaramente con le storie, con la cronaca, no? Con i mezzi che esistono nel novecento, che esistevano nel novecento. Invece qui parliamo di fine del trecento, quindi io l'ho trovato ancora più straordinario. E allora, queste storie le conosciamo, ci sta quante ce ne sono che non conosciamo. Eh sì, infatti. Infatti Angela chiede, mi sono chiesta fin dal primo libro come tu scelga quando ambientare la storia del passato. Ti fa ispirare da qualcosa che leggi o che senti oppure scegli in base alle tue ricerche? Cioè, scegli il periodo dove poi vai a cercare qualcosa. Ma è, è un po' e un po'. Un po' e un po'. Con questo caso di Costanza e Buoni Propositi, questo qui appunto di Bernarda, in realtà non avevo l'idea determinata, no? Di ambientarlo nuovamente nel Medioevo, però nel momento in cui mi sono imbattuta in questa storia, perché è evidente che quando ho scelto, prima di tutto ho scelto Milano come location, a quel punto ho dovuto anche tanto studiare la storia di Milano, che insomma, ripeto, non era esattamente il mio pane, non è che mi ricordassi che anche sapevo un po' che niente proprio della storia precisa, precisa di Milano. Per cui, è chiaro che devi un po' partire dalle origini per capire, perché io ogni volta mi dico vabbè, lo voglio inventare che ne sono il Rinascimento, ma in realtà ogni volta ero costretta comunque ad andare indietro, perché non capivi i fatti del Rinascimento se non avevi studiato quelli immediatamente precedenti. Certo. Alla fine anche con questioni di Costanza me ne ero dovuta andare a studiare il Sacro Romano Impero, non ne potevo più. Perché non riuscivo sennò a capire, io volevo studiare solo Federico II, perché mi sentivo, come dire, incuriosita, attratta alla figura di Federico II, ma la verità è che per capire tutti anche i problemi che lui aveva in Germania, i conflitti che c'erano, ero dovuta appunto tornare indietro al Sacro Romano Impero. poi lì ho detto basta, quello che hai capito è capito. Perché non ne venivamo a capo. Allora, analogamente, per Costanza e buoni propositi, avevo originariamente pensato a un'altra epoca storica, ma sono stata costretta a tornare indietro e nel momento in cui sono tornata indietro e ho trovato questa vicenda, era talmente tanto perfetta per il mio racconto, che ho detto va bene, di nuovo, a me dovevo, anzi meglio, così mi riciccio quello che avevo studiato. Vivo questa, viva la sincerità. Ma no, è un sanissimo principio di economia, di economia degli sforzi, ma che poi in realtà ha voglia, cioè comunque gli sforzi van fatti, perché questa in particolare è una storia complessa con anche testimonianze dell'epoca, perché poi perché c'è stato tutto il processo, è andato a processo, esatto, e quindi tutti questi documenti sono arrivati fino a noi. Per cui in realtà chi fosse l'impostora non si sa, perché a un certo punto l'impostore è svanita, non si sa niente di lei, vive, è morta, si è nascosta, non lo sa nessuno, quindi io me lo sono immaginato. Però tutta quanta, insomma, la vicenda, dei suoi avvistamenti, quelli sono riusciti a rintracciarli appunto attraverso tutte queste carte del processo che è stato fatto intorno a, già vedi, ho dimenticato, dove era il 1420 e qualcosa, quindi tanti anni dopo. Vuol dire che lei è andata avanti a tanti anni a pringersi. È andata avanti tanti anni, infatti anche questo era stato bello, no, da descrivere e da immaginare. Originariamente appunto era la storia, la storia calda del momento, da un punto di vista della cronaca, poi via via. nel momento in cui invecchiava e la gente poi se la cominciava un po' a dimenticare, allora tutto quello che le ravalzano, quell'ammirazione e quell'interesse da parte degli altri che avevano bisogno di sentirsi raccontata una storia, di stare in ascolto, a un certo punto veniva meno, allora tutto quello su cui lei aveva investito, cioè l'assumere un'altra identità per sentirti oggetto di considerazione per vivere una vita diversa, poi a un certo punto si ritrovava con niente in mano, quindi anche quello, la parabola, insomma, c'è stato veramente tanto, si capisce che io ho amato scrivere questo romanzo, no, faccio proprio così. E senti, visto che ormai credo di capire che il tempo nostro stia scadendo, intanto invece di domande ti leggo un po' di complimenti perché ci provo, perché ne stanno arrivando tanti, quindi abbiate pazienza. Anna Laura dice Alessia ho tutti i tuoi romanzi e c'è un abbraccio. Grazie. Michela dice Li leggerò sicuramente devono essere stupendi, Michela, lettrice conquistata, brava. Grazie, brava Michela, brava, grazie per la fiducia, grazie. Si moltiplicano le curiosità, appunto, il terzo sarà l'ultimo sulla serie di Costanza. Boh, chi può dirlo? Chi può dirlo? Impossibile però, possibile. Poi sai, io volevo finire nella serie dell'allieva un po' di follia in primavera e poi invece ne ho fatti altri due che sono stati anzi tra i più amati, quindi mai dire mai. E perché come per Costanza la vita è piena di sorprese, volenti o non enti ci arrivano. Cinzia dice io per ora ho letto il primo e mi è piaciuto tanto, hai la capacità di farci vivere dentro la mente della protagonista, ne percepivo le emozioni. È molto bello, grazie, grazie veramente, grazie. Poi, vediamo un po', voglio già sapere, hai già trovato la storia che sarà oggetto della parte storica del terzo capitolo di Costanza. Allora, dovrebbe, forse, se ci riesco, perché sto studiando tutto il periodo, il 700 veneziano. Ah, che meraviglia, che meraviglia. Vediamo, però, insomma, ancora non sono sicura al 100%, però l'idea sarebbe quella. Bellissimo, e poi vediamo un po', allora, Giovanni, ah, che bello, ho letto tutti i tuoi libri, mi piace tantissimo il tuo modo di scrivere. Li ho amati tutti, anche Elena e la tempesta che affronta un tema così difficile in maniera molto delicata. Bravissima! In questa serie di Costanza, questa aggiunta di mistero e storia dà davvero qualcosa in più e appassiona tantissimo il lettore. Grazie Giovanni, grazie infinite, veramente, cioè, God bless you. Grazie. Va bene, grazie a te Alessia, credo che appunto il tempo sia finito, grazie davvero, finché le librerie sono aperte, vediamoci tramite un libro. Ecco, sì, infatti, lasciamoci confortare e far compagnia da un libro, ecco, che di questi tempi non abbiamo tanti altri piaceri, ma almeno questo ci resta. E comunque... Io, ma tanti altri, insomma, non necessariamente... no, ma guarda, i tuoi personaggi sono il vero anti-lockdown, lo dicono tutti, no, che sono persone vere. Ecco, abbracciate Costanza e non avrete bisogno di congiunti stretti e in barba al DPCM. Illuriamoci, va bene. Tanti saluti a tutti, grazie ancora, ciao Alessia, ti vediamo presto. Grazie davvero a tutti voi che ci avete seguito, grazie a te Fabrizio e grazie a Circolo. Grazie.